Allora, siamo di nuovo qua, abbiamo ancora un quarto d'ora a disposizione, dieci minuti, quindi possiamo un po' tirare un po' le somme della situazione. Per tirare le somme volevo ritornare a puntare un po' l'accento su questo. Sostanzialmente, perché poi chi si trova in una situazione difficile, cioè noi durante la trasmissione poi divaghiamo giustamente perché poi i problemi sono tanti e viene da sé parlare di tante cose. Poi però cerchiamo sempre di dare delle soluzioni per specifici problemi. Chi è in una situazione difficile è chi ha chiesto un finanziamento e non riesce a rientrare di questo finanziamento. Molte volte è perché i conti non tornano, in quanto questa cifra aumenta esponenzialmente sempre di più. Sempre di più non si riesce per tenerne il conto e tante volte i imprenditori si sono resi conto che non era che dovevano rientrare di 90 mila euro, 100 mila euro, ma di una cifra molto più bassa e anzi dovevano avere una restituzione da parte delle banche. Questo è estremamente importante saperlo. Quindi senza creare ansia, panico, allarmismi o quant'altro in chi ci ascolta. Però diamo dei suggerimenti molto semplici, concreti, pragmatici, che non portino sulla cattiva strada ma che aiutino le persone. Diciamo questo, rivolgendomi un po' all'imprenditore che comunque si può trovare in difficoltà. Io consiglio di far comunque valutare la propria documentazione bancaria, sia che siano estratti conto bancari, sia che siano finanziamenti, mutui o leasing, gratuitamente e successivamente valutare la convenienza di un'eventuale contestazione all'istituto di credito, perché ricordiamolo, non sempre ci sono i presupposti per poter procedere. Perché comunque procedere contro un istituto significa dotarsi di un legale, avviare una contestazione formale che nel nostro caso specifico non dura moltissimo, siamo intorno agli 8, massimo 12 mesi, quindi abbastanza breve, ma che comunque comporta dei costi e deve essersi assolutamente una convenienza economica nel poter procedere. Dove può sorgere il dubbio che la propria situazione non sia del tutto chiara e quindi attenzione, da cosa ti stai attenti? Beh, è molto semplice, basta guardare su un estratto conto bancario trimestrale dove ci sono il riepilogo delle competenze, ovvero gli interessi debitori che io vado a pagare, se gli interessi debitori sono consistenti e comunque mi vengono applicate delle spese aggiuntive trimestralmente, se questo è stato perpetrato nel tempo, quindi almeno avendo documenti di almeno 10 anni, allora sicuramente lì è possibile contestare un importo all'istituto di credito, sicuramente. Quindi avere anche tutta la documentazione? Sì, bisogna avere tutta la documentazione o nel caso non fosse disponibile va richiesta all'istituto di credito. Ecco, mi ha fatto un'espressione perché ha fatto… No, perché fa fatica eventualmente l'istituto di credito, eventualmente date, roba vecchia, perché ti trova tutte quante in gabelle in questo mondo. Beh, c'è una legge sulla privacy che comunque tutela qualsiasi cittadino italiano e che gli permette di avere accesso ai propri documenti, ai propri dati sensibili che sono in possesso della banca. Bisogna anche informare però l'utente della banca che subirà sicuramente dei costi per eventualmente recuperare… La banca può applicare i costi, comunque ricordiamolo che sempre questa legge sulla privacy prevede che questi costi non devono superare gli effettivi costi di produzione, quindi la fotocopia e l'operatore che ha fatto clic per stampare il foglio, questo è il costo di produzione. Questo lo dice la legge? Esattamente, una delibera del garante della privacy. Per esempio, se non hanno documentazione neanche possono fare la preanalisi e decidere se c'è… Comunque abbiamo la nostra… Ci sono banche che chiedono 15 euro a fotocopia, eh? Sì, lo so. Ecco, infatti, ma per capire tutto questo uno deve vedere tutta la documentazione dove queste sono state imputate. Noi bisogna andare in banca e piantare i piedi per terra e dire mi dai, io ti pago l'effettiva prestazione, bisogna diventare cattivi. Purtroppo è così. A rischio di ritorsioni. E questa era l'altra cosa che si diceva. Vabbè, forse è meglio non averlo più il conto in quella banca. Allora, vi porto un esempio mio. La storia della Guardia e finanze attimamente. È uscito un articolo sui giornali che mi hanno addirittura, perché non mi vergogno di dirlo, mi hanno addirittura, perché cercano in tutti i modi di fermarmi, direi, ma per le mie apparizioni… Un pericolo pubblico, insomma. Esatto. O qua mi avete un pericolo pubblico. No, è una volta. Non lo sapevo. Vabbè, no, ma non scherzo a fare le battute. No, non scherzo. Loro escono, in un certo momento escono, la Guardia e finanze cerca in tutti i modi di bloccarti. E' uscito un articolo sui giornali mettendomi che ero il collettore, il collettore di tangenti per oliare un finanziere. Su sette persone che eravamo tre, non so neanche che faccia abbiano, siccome stanno cercando di fermare il sottoscritto, mi hanno detto non mi interessa, io vado avanti. Perché lei si ribella sistema allora. Bene, il giorno dopo, già approvato, il giorno dopo mi è stato tolto l'affidamento da parte di una banca. Questo due mesi fa, due mesi fa. Non è un incentivo questo, è abbastanza altro. Ma ora siamo a questi livelli a parte, non mi interessa. Io ho già detto, mi possono distruggere finanziariamente, ma vado fino in fondo. Non per me. È una questione di principio e la gente non deve più avere paura. Come associazione noi suggeriamo ai nostri associati di andare a svolgere queste determinate preanalisi o analisi dal momento in cui non hanno grossi affidamenti nella banca stessa o grossi interessi perché se no si rischia di avere una grossa controproducente. Si va lì quando hai interrotto magari i rapporti oppure hai qualche cosa che non ti incide sulla tua normale attività giornaliera perché queste ritorzioni sono all'ordine del giorno. E non è solo a lui che sono successe, ma succedono. Dimenticavo una cosa, problemi neanche uno con questa banca. Non ne ho creato neanche uno. Questo è meglio ribadirlo. Non è che eventualmente ne hanno pubblicato perché era già approvata la mia posizione. Il giorno dopo l'uscita del colo mi è stata tolta. Non mi interessa, vado avanti. Diego, tu che ne dici? Volevo chiedere, ma a questo punto, questo c'è stato anche scritto tempo fa, forse non abbiamo mai dato seguito perché non c'era neanche stato modo. Alcuni hanno detto, ma se io chiedo un finanziamento provo ad andare in una banca estera. Quindi rivolgimi all'estero o in un altro territorio, un po' come fanno i preditori che vanno all'estero. È la stessa situazione? Allora, le banche all'estero lavorano sull'estero e non lavorano in Italia. Le banche che lavorano in Italia sono autorizzate a operare sul territorio nazionale. Quindi le banche all'estero finanziano attività che vengono svolte all'estero. Le problematiche sono, come posso dire, da un punto di vista civilistico, sono analoghe perché anche lì chiedono ovviamente le dovute garanzie. La burocrazia può essere più o meno identica a quella nazionale, però valutano i progetti, valutano le attività che vengono poi implementate con quel finanziamento. Quindi non c'è, come è avvenuto nel nostro paese negli anni passati, il finanziamento a pioggia, ma viene dato un finanziamento mirato per il recupero di un'attività o per il recupero di un'iniziativa oppure per lo sviluppo di un progetto. Queste cose all'estero funzionano e funzionano in maniera veramente egregia in Germania, in maniera molto particolare in Francia e anche nei paesi... Clarissimo, però bisogna avere questa attività all'estero. Bisogna avere attività all'estero ovviamente. Che cosa ne pensa? Facciamo appunto il giro di chiusura, Gottardo. Vuoi dire soluzioni fattibili, cose praticabili? Allora, io vi ho detto, dal punto di vista amministrativo, territoriale, sono fiducioso, sono convinto che se i nostri territori continueranno ad essere amministrati da amministratori virtuosi, e ce ne sono tanti, sapete, per volte che i nostri territori hanno veramente la fortuna... Per fortuna, abbiamo grande considerazione dei sindaci... Abbiamo veramente realtà importanti, ammirevoli, con cui ci relazioniamo quotidianamente, del cui abbiamo tanto a imparare. Sono fiducioso che la nuova legge elettorale cambierà anche questo tessuto umano del Parlamento italiano. Io voglio sperare, insomma, che non sarà breve, non sarà... non la vedremo domani, ma voglio pensare, insomma, che la situazione sarà... ci sarà una rinascita dopo questa desolazione generale, ci sarà una rinascita, da questa nascita qua le nuove generazioni ne traranno dei benefici importanti. E noi lo speriamo veramente. Le associazioni, cosa possono fare i cittadini? Le associazioni, cosa possono fare? Con un messaggio di speranza, dare qualcosa di positivo, di non abbattersi chi riceve cartelle, chi ha problemi con le banche, chi ha problemi di altra natura, di rivolgersi con fiducia alle associazioni, e noi siamo una di quelle, ma ce ne sono onestamente tante altre, ma la Unione Liberi fa parte di queste, di rivolgersi a queste associazioni, perché hanno strutture, hanno professionisti, hanno gente che può consigliare, supportarle psicologicamente, senza una spesa esorbitante o senza nessuna richiesta particolare. Quindi affidarsi a persone che si conoscono nel territorio, avere, farsi un po' di informazione, logicamente, chi si è e chi non è, e andare tranquillamente a esporre i propri problemi, perché il Veneto è un po' come tipologia di persona, un po' chiusa, denunciare un proprio fallimento, denunciare una propria manchevolezza, non è proprio la persona... Io provengo da un altro territorio dove magari c'è un po' più di dimestichezza con rendere pubblica... La Valderie, insomma, è un modo diverso. Bravissima, quindi rivolgersi alle associazioni... Non sentirsi soli. Non sentirsi soli, perché ci sono gente, associazioni, volontariato, tante persone per bene, ancora in quest'Italia, che è la speranza per il domani per questi giovani. Moschini. Le nostre organizzazioni associative, la Primavera d'Italia, Union Liberi, Federliberi, che sono il motore portante di tutta una serie di altre organizzazioni alle quali aderiamo e aderiscono a noi, sono ovviamente a disposizione del territorio e lo facciamo con un incentivo che è quello della formazione. Facciamo formazione, la facciamo gratuitamente, quella obbligatoria, facciamo tantissima attività associativa non solo ai piccoli imprenditori, ma anche alle famiglie. Cerchiamo di essere vicini seriamente, e per seriamente, ripeto, non voglio dire che le altre organizzazioni non sono serie, ma concretamente, perché facciamo cose concrete. Tutti i giorni, non un giorno sì e qualche altro no, tutti i giorni siamo presenti sul territorio per aiutare gli imprenditori e le loro famiglie. Ripeto, con tutta quella serie di attività che ha citato anche il collega Lazzaro, ma che comunque sono il nostro vero cavallo di battaglia, sono il nostro vero intendimento ed è la nostra unica finalità. Che dice il nostro giovane consulente? Poi la parola di chiusura, un commento al nostro imprenditore. Sì, diciamo che noi come professionisti siamo diventati parte dell'associazione Union Liberi proprio perché condividiamo i valori. Quindi vi siete reinventati per crearvi una professione. Assolutamente sì, i nostri valori di trasparenza nei confronti delle persone che si rivolgono a noi sono gli stessi valori di Union Liberi. Quindi secondo me queste associazioni fanno veramente qualcosa, danno delle risposte che altrimenti non sarebbero arrivate. Assolutamente, ma è importante come messaggio, anche perché tantissimi, c'è anche scritto che sono dei giovani della stessa età, che hanno perso il lavoro, che hanno perso speranze, e qualsiasi cosa ci rinunciano. È importante reinventarsi, rimettersi in discussione completamente. Cioè con un ingegnere gestionale si rimetta completamente in discussione e che prende in mano una situazione del genere, supportato da un'associazione per carità, quello che si vuole perché magari da solo uno ha anche difficoltà e che trova quindi una collocazione nella società in modo attivo. È un esempio molto bello. È un bel esempio anche per tanti che magari ci possono ascoltare oppure per i genitori di coloro che ci ascoltano e che hanno magari dei problemi operativo. Come imprenditore, come artigiano, non sono tanto, non voglio fare basti al contrario. No, 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 è l'ultimo messaggio. Ottimista come consigliera qua. Vista la situazione ci vuole un cambio radicale completamente. Però lei si è esposto, quindi vuol dire che ci crede, perché altrimenti non lo farei. Vi direi, chiudo la baracca e vado in pensione. Ho capito, è una questione di principio. Un po' di ottimismo c'è, dai, almeno nel principio. Se continuo a lottare vuol dire che qualcuno spero, non vedo, diremmo, da parte delle istituzioni qualche cosa di volere eventualmente. Capisco i ragazzi, perché io difendo i ragazzi. I ragazzi che ci vogliono... Allora, parlano delle partite IVA. Allora, chiudono aziende che hanno 50 dipendenti. Uno su 50 dipendenti ci saranno 3, 4, 5 che vogliono eventualmente mettersi in gioco. Dicono le statistiche che hanno chiuso una partita IVA, ma se ne sono aperte 5. Ma scusate un attimo, date l'informazione come si deve. Prima cosa. Dopo, obiettivamente, partire, ci vogliono anche dei soldi, ragazzi. Eh sì, infatti. E qua i soldi non ci sono. Io spero vivamente, perché mi sono messo in testa di cambiare questa Italia che io amo, mentre i politici a certi livelli probabilmente amano solamente il proprio interesse in età. Spero, su che un'età che non so se riuscirà... No, no, io ci confido. Dico, me lo continuo a rinforciare. Noi lo dobbiamo fare per noi, lo dobbiamo fare per i nostri figli. No, per carità, se no andiamo avanti troppo l'anno in tempo. Non ci sono neanche più gli altri figli. Prendono la valigia e se ne vanno. Grazie a voi di essere stati con noi in studio, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito. Appuntamento, come sempre, a domani. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie. 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 Grazie.